Allora, vi abbiamo lasciato un po' di suspense, torniamo con la nostra dottoressa Francesca Levi Bacchielli e vediamo di entrare sempre all'interno dell'azienda, quindi una valutazione grafologica molto interessante la prima posizione che è stata analizzata per questo direzionale commerciale. Sì, era appunto questa figura che era un export area manager che appunto aspirava a una posizione di responsabile commerciale. Ma alla fine per curiosità? Alla fine non è stato, lui no, però l'altro caso invece sì. Ma non è stato preso per gli elementi che sono emersi? Per gli elementi che sono emersi effettivamente, nel senso che l'azienda ha poi valutato... L'azienda ha fatto le valutazioni e ha reputato che non era... Esatto, hai capito. E c'è rimasto male? Ma non più di tanto, nel senso che comunque era una persona che aveva tante carte nel suo mazzo, quindi tante qualità che comunque nell'analisi erano emerse, erano venute... No, perché secondo me posso dire una cosa tra parentesi, ma serve anche un po' sempre per capire anche l'utilità di questo e non creare preconcetti nei confronti degli ascoltatori che poi approcciano molte volte senza avere una conoscenza approfondita. Sì, è vero che può essere una selezione molto molto puntigliosa e a volte può scartare delle persone che senza una perizia grafologica altrimenti magari sarebbero entrate, però aiuta anche la persona stessa a fare una autovalutazione e riuscire a centrare meglio gli obiettivi plausibilmente, perché poi entrare in una realtà aziendale, impegnarsi tantissimo e dopo 8 anni o esserne espulso o fare delle valutazioni proprie e dire non ci sto più dentro, sto scoppiando, è altrettanto tragico, per cui sono importanti. Esattamente. Non la interrompo più. Beh, vediamo allora il secondo esempio. Questo è un esempio molto interessante, intanto perché è un lieto fine, nel senso che la persona poi è stata effettivamente inserita. E va bene, questo è un caso interessante perché appunto si vede dall'immagine che nella raccolta del saggio grafico che noi abbiamo appunto raccolto in studio, la persona ha scritto in stampatello maiuscolo che purtroppo non va bene, nel senso che lo stampatello maiuscolo è una scrittura standard che non può essere graffologabile fino in fondo. Ma l'avevate detto voi? Noi forse non l'avevamo detto in maniera molto chiara, infatti è stato un caso che ci ha fatto molto riflettere per dire va spiegato molto bene. La raccolta del saggio grafico è un momento delicato, assolutamente delicato. Infatti l'ho portato apposta per, diciamo, spiegare e si può fare un semplicissimo decalogo, cioè che si può dire al candidato come deve scrivere. Non è importante appunto il contenuto quando si raccoglie il saggio grafico, ma solo alcuni accorgimenti tipo non scrivere in stampatello oppure tenere sotto un po' di fogli per la pressione e quindi non appoggiare il foglio direttamente sulla superficie del tavolo perché si perde la pressione. Ecco, si può semplicemente stilare un decalogo. E in questo caso, per fortuna ero lì, quindi gli ho chiesto di scrivere e di correggere, però è stata interessante questa cosa perché non so se si può... Torniamo sulla grafica video. Sì, se si può tornare sulla scrittura e scorrere perché appunto poi si vede anche sotto l'altra scrittura che è quella del corsivo. Allora, si dice che lo stampatello maiuscolo è una scrittura un po' di nascondimento. Ecco, eccolo qua, se vediamo il corsivo. Vediamo il corsivo. Fermiamo così, fermiamo la metà così, vediamo la firma. Esatto. Eccola, fermi, perfetto. E si vede un po' di stampatello. Allora, intanto questa persona era, un po' di contesto, era candidato per una posizione di coordinatore punti vendita. L'azienda che ci ha commissionato l'analisi grafologica aveva già conosciuto per canali diretti questa persona ci ha chiesto appunto di verificare alcune cose molto precise. Coordinatore punti vendita nel loro contesto significava, questa è un'azienda fashion di lusso che ha appunto dei negozi sparsi in Nord Italia e all'estero. e questa figura doveva, deve seguire i punti vendita, quindi spostarsi costantemente, andarli a visitare, raccogliere eventuali problematiche nelle persone addette alle vendite e ecco gestire i rapporti nel modo più morbido possibile. Non è una figura da leader, si vede dalla scrittura, ok? Però in questo contesto non ha importanza. Non interessa assolutamente, anzi, deve essere una gomma, no? Sì, esatto, perché dietro c'è la proprietà che fa questo ruolo, ok? Quindi in questo contesto aziendale qua, nello specifico, serve una persona che ha uno spiccato senso relazionale, una persona che sa ammorbidire i conflitti, d'accordo? E tutto sommato il candidato, esatto, queste caratteristiche ce l'ha. Che cosa però possiamo osservare confrontando lo stampatello e la scrittura in corsivo? Allora parte sopra e parte sotto che è sempre la stessa persona, esatto. Parte sopra che è sempre la stessa persona e ripetiamo appunto che lo stampatello maiuscolo è una scrittura che per questa impostazione così standard è un po' maschera, no? Qualcosa. Noi lo vediamo nella scrittura sotto il corsivo, vediamo in particolare come questa persona scrive la lettera T. La lettera T è una lettera interessante perché è la lettera che simboleggia il nostro rapporto con il superio. Il modello grafico infatti si parte dall'alto, si redige l'asta verso il basso, la parte alta della lettera T, cioè la parte alta simboleggia proprio il mondo delle regole e il rapporto con l'autorità, quindi dall'alto si parte e si porta dentro, si introiettano le regole. Questa persona ha un modo completamente inverso, cioè parte dal basso e va verso l'alto e la lettera T è un po' una lettera che sembra una spada, no? Allora se si rivolge verso l'autorità, quindi con l'asta verso l'alto vuol dire che si ha un po' di carica aggressiva verso l'autorità. Questa persona però infiocchetta la T, vuol dire che questa carica aggressiva in qualche modo nel suo caso è sublimata o comunque non è riconosciuta anche per lui stesso. E se avesse invece la stanghetta tutta attaccata, no? Che ci sono tanti che hanno stanghetta attaccata, che poi era un po' curvetta. Sì, diciamo che è una persona che ha un senso di sé e della propria intelligenza molto spiccato, una persona che si fida molto della sua intelligenza, a volte anche magari con un po' di orgoglio intellettuale. Ecco, questa cosa comunque è utile perché ci dice che questa persona con questa carica diciamo aggressiva un po' tappata, se deve gestire conflitti si sentirà a disagio. Quindi lui può raccogliere, può ammorbidire, ma riporta all'azienda e poi il conflitto verrà risolto e all'azienda in questo caso era esattamente la persona giusta al posto giusto, era quello che voleva e quindi è andata bene. È andata a buon fine. Ecco, per anche introdurre il discorso della nostra testimonianza aziendale ho altre due scritture che riguardano proprio la selezione che abbiamo condotto nell'azienda Topic, di cui il dottor Pisaneschi è amministratore delegato, è un'azienda in cui noi abbiamo... Cosa si occupa l'azienda, giusto così riusciamo a capire? Facciamo consulenza per le grandi aziende, abbiamo una sede a Milano e una a Vicenza, i nostri clienti sono tipicamente aziende del settore finanziario, bancario, farmaceutico, li supportiamo nell'utilizzo di strumenti, metodologie e tecnologie sia per la gestione della formazione ma anche di tutti i processi a supporto, community, insomma... Quindi è un'azienda anche molto particolare, che si avvale di collaboratori che hanno un certo tipo di background culturale di non poco conto, insomma, non è operai, impiegati, coordinatori... Sì, 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 è abbastanza di nicchia e poi soprattutto per nostra natura dobbiamo essere votati all'innovazione perché altrimenti non svolgeremo bene il nostro lavoro. Certo, siete di stimolo anche l'azienda, insomma, con cui fate partnership. Sì, 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 sì. Perfetto, allora giusto per capire che cosa, che tipo di figura che non vendesse o facesse... Prego, dottoressa. Ecco, intanto appunto volevo dire che le analisi grafologiche non è che uno le fa solo su figure di responsabili o top manager, possono essere fatte anche su tutta la squadra operativa. Quindi ecco, nel caso di Topic noi abbiamo seguito intanto la selezione e l'inserimento di tutti i loro collaboratori e questo caso ci aiuta anche proprio a capire il valore aggiunto dell'analisi grafologica. Noi infatti, oltre alla selezione, noi facciamo anche, organizziamo corsi di formazione e in uno di questi corsi abbiamo, insomma, conosciamo tante persone e quindi c'era una persona, una candidata che ci piaceva molto, l'avevamo appunto non solo conosciuta in un colloquio, ma anche in un periodo abbastanza lungo. E poi quando... e quindi pensavamo di presentarla all'azienda Topic. Quando poi ci hanno chiesto di fare l'analisi grafologica, quindi abbiamo raccolto il saggio grafico. Abbiamo capito bene che tipo di esigenze aveva l'azienda e quindi focalizzato bene che cosa osservare nella scrittura e ci chiedevano non solo questo orientamento all'innovazione, quindi l'apertura mentale di una persona, la propensione anche al nuovo, a non spaventarsi del nuovo, però nello stesso tempo è un lavoro in realtà in cui la precisione e la concentrazione è molto importante. Loro lavorano molto con numeri grafici, reportistica, lavorano molto con Excel, insomma ci vuole. Non si scherza, non si può sbagliare. Ci vuole una precisione fuori dal comune. Allora, guardando la scrittura di questa persona ci siamo accorti che aveva certamente caratteristiche orientate sicuramente, molto intuitiva, orientate al nuovo, eccetera, ma la precisione non era il suo forte. Quindi sarebbe stato per lei un tipo di lavoro, anzitutto proprio per la persona. Non giusto, cioè questa è una persona che lavora bene in un ambiente dove la creatività, il rapporto con gli altri, anche l'improvvisazione, ci siano, siano presenti. Un lavoro troppo di precisione, troppo sui numeri, troppo su Excel. L'avrebbe uccisa psicologicamente. Da che cosa l'avete estrapolato? L'abbiamo estrapolato, intanto dal fatto che anche lei ha il segno impaziente, ok? E quindi, ma molto più dell'altra scrittura, si mangia proprio le parole, cioè ci sono delle parole dove mancano proprio delle lettere, degli elementi e si capisce solo leggendo il contesto. Poi si vede anche da questo ritmo così incalzante, perché pur essendo rovesciata è una scrittura molto veloce e si vede dal fatto che è una scrittura di persona intuitiva, le lettere, le parole sono vicine una all'altra, ok? Questo è un segno proprio di persona che non si ferma tanto nella riflessione, perché quello invece è un segno, il largo tra parole qua è più stretto. Quindi l'abbiamo capito da questi elementi qua. E in questo caso direi che l'analisi graffologica assolutamente ha fatto la differenza, perché era una persona, una candidata molto valida, quindi dal nostro punto di vista una persona, come si dice, segnalabile alle nostre aziende e clienti. Però per questo tipo di lavoro, per questo tipo di contesto aziendale non era la persona giusta e l'abbiamo capito grazie all'analisi della scrittura. Qui mi viene anche una parentesi che può essere anche molto importante, perché soprattutto in questo periodo è un po' difficile. E anche per persone giovani ci sono di quegli sconforti pazzeschi che hanno poi dei precedenti psicologici di non poco conto, ovvero una persona che ha delle capacità e tutte attitudini, che viene scartata da un'azienda o un colloquio senza una motivazione, non se ne fa una ragione, come qui viene lasciato dal fidanzato o dalla fidanzata senza troppe spiegazioni, per fare un esempio con l'SMS. Sono dei traumi che possono sembrare delle stupidaggini, ma non sono così. Io lo vedo parlando con tantissime persone. Viceversa, dando delle spiegazioni di questo tipo a un colloquio, quindi tu hai delle aspirazioni, ci speri, ci conti, ci metti l'anima e poi dici guarda che perfetto, però sappi che il tuo carattere è più questo, tu in questa azienda moriresti perché ti è richiesto di essere, tra virgolette, un robot, ma insomma molto pragmatico è preciso, aiuta la persona a vivere diversamente il rifiuto ed è molto importante perché altrimenti una persona dopo quattro rifiuti è secco palomo, ma è drammatico perché è così, perché vedo persone capacissime che hanno molti problemi e difficoltà a presentarsi anche per ruoli corredi, però sono sfiduciati e in questo momento è importante, forse questo supporto qua, focalizzare anche con la persona, anche se giustamente l'azienda dice, una volta che dice scartiamo quello, è stato scartato, non dice due parole, per cui mi rendo conto, io dopo le do la parola perché i suoi dieci minuti ce li ha, abbiate pazienza, pubblicità pochissimi secondi poi torniamo insieme.